Salve a tutti ragazzi sono sempre io e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Siamo ritornati qui con la carriera allenatore con l'Inter Dopo la fine del calcio mercato oggi ritorniamo proprio a pieno con episodi dedicati esclusivamente appunto al campionato Questa è la classifica Siamo a 4 punti dalla Juventus e c'è ancora lo scontro diretto Quindi ragazzi è ancora tutto apertissimo anche con le squadre dietro di noi Soprattutto l'Alastio Allora ragazzi prima di cominciare le partite volevo parlarvi di un paio di cose Innanzitutto come sempre vi ringrazio tantissimo per il sostegno che state dando a questa serie Gli episodi di calcio mercato sono andati benissimo e c'è stato un grande feedback positivo su quello che ho fatto Anche perché ragazzi andiamo un attimo a repilogare tutti i trasferimenti che sono stati fatti Abbiamo acquistato Griezmann Abbiamo acquistato Felipe Anderson 13 milioni più Bolasi Abbiamo acquistato Tielemans per 9 milioni più per 9 milioni compreso Felipe Melo Masuaku con l'ho praticamente scambiato l'ho praticamente scambiato con Santon Inaki Williams l'ho pagato 3 milioni e 800 Nardi l'abbiamo pagato 4 milioni Sono signoretti tutti quindi un ottimo un ottimo mercato devo dire ragazzi sono stato molto contento che voi l'abbiate Apprezzato Volevo rispondere un attimo a una domanda che mi avete fatto In precisione me l'ha fatto Nicola Falcomer Credo si legga così Che mi ha chiesto Se vuoi rendere il gioco realistico non puoi comparare solo giovani Se il prossimo anno vuoi fare una buona Champions soprattutto in centro campo Prendi Biglia o Gundogan Biglia Allora ragazzi questo è vero Questo è vero Ovviamente il prossimo anno Il mercato che farò il prossimo anno Non sarà ovviamente più di giovani da far crescere Perché è un anno dopo quello in cui dobbiamo assolutamente vincere la Champions Per poi magari se non la vinciamo andare il prossimo anno successivamente E' ovvio che il prossimo anno non comprerò un 18enne ma magari comprerò un 23enne Già Sono già in una buona squadra Da poter magari migliorare il centro campo Da poter migliorare la difesa Ecco farò crescere i miei giovani E poi ci aggiungerò di qualcuno più esperto Per esempio Gundogan Altro discorso ragazzi Per Peris Mi avete chiesto in tantissimi perché non l'ho venduto Se mi offrono così tanti soldi A gennaio per Peris ragazzi A giugno me ne offrono Non dico il doppio ma almeno 10 milioni più sicuramente E quindi volevo aspettare Perché per Peris Che ha se non sbaglio 27 anni 28 anni avrà la fine di quest'anno Potrò chiedere qualcosa di più Ragazzi ne approfitto anche per salutare dei ragazzi Che mi hanno chiesto appunto di essere salutati Siete in tanti Se mi sono scordato qualcuno Mi raccomando ditemelo sotto nei commenti Saluto Nicolò Bischari Ciao Nicolò Riccardo della Giovanna Ciao Riccardo Marmox93 You Gameplay 2003 Angelo Rubano Giuliana Pisanti E ultimo ma non ultimo Just Ale Player YouTube Ragazzi vi saluto Mi raccomando Continuate a sostenermi Vi ringrazio tantissimo Io direi che ci possiamo andare a giocare a questo match Col Verona Ragazzi questa è la formazione Nardi Show Murillo Miranda Florenzi Gnucuri Tielemans Cialanoglu Filippe Anderson Griezmann E Mares Ragazzi Gioco a campione Gioco a campione Io ragazzi veramente Ricevo volte dei commenti che Sono Sono pazzeschi Gente che mi dice che taglio E poi Cavo Metto a principiante A direttura principiante Perché ho vinto 5-0 Col Milan Ragazzi avete visto tutti La partita che è stata Quella col Milan Ma soprattutto La cosa che mi sta più sulle palle È che ho pareggiato 0-0 La partita con l'Empoli Ultima in classifica E l'ho lasciata Però di quella lì La gente che si lamenta Non dice niente Che ho lasciato 0-0 Con l'Empoli Ultima in classifica Di quella lì La gente non dice niente Si lamenta solo quando Vinco 5-0 Con il Milan Io vabbè ragazzi Non so cosa dire Di questa gente purtroppo No purtroppo Per fortuna riesco a non Interessarmi molto Ma adesso dobbiamo Assolutamente vincere Con l'Elas Verona Cialanoglu Per Tielemans Può andare Tielemans La gioca Luke Show Può partire in velocità Rientra Luke Show C'è ancora Tielemans In mezzo c'è Griezmann Si gira Griezmann Il tiro di Griezmann Signori che gol ha fatto Griezmann Antoine Griezmann È un cecchino signori Una bestia Mamma mia Mamma mia Ha urlato fino Ma signori che gol ha fatto Si è girato in un fastoletto E poi l'ha piazzata Ottimo lavoro qua di Tielemans Poi Griezmann ragazzi Che gol Mamma mia ragazzi Un fenomeno Altro che non può fare la prima punta Griezmann può fare tutto Attenzione Greco Bella palla filtrante No No Non ho spinto niente Non ho spinto niente Fallo di Felipe Anderson Purtroppo non ho spinto nessun tasto per intervenire E qua è stato un contrasto di gioco Come al solito Luca Toni ci purga Calcio di rigore per il Verona Toni contro Nardi Il tiro di Toni Rigore perfetto Uno pari Pareggio del Verona Sempre Luca Toni L'avevo chiamato Gran rigore Mamma mia Attenzione a Viviani Non facciamolo crossare Perché c'è Toni Tielemans Sono Romulo Toni Siligardi Chiuso da Florenzi Ancora Florenzi Ancora Toni C'è Miranda Ancora Siligardi Toni ancora lì Di tacco Nardi Poi Felipe Anderson Perde un bruttissimo pallone La mette in mezzo Dove c'è Siligardi Ma ancora Nardi Finisce qui il primo tempo ragazzi Uno a uno Mataggio di Griezmann Pareggio di Luca Toni La Juventus deve ancora giocare Ma A noi l'uno a uno Ci serve a ben poco Dobbiamo cercare di vincere a tutti i costi C'è la Noglu Che palla per Griezmann Davanti al portiere Signori Antoine Griezmann 2 a uno Ma un fenomeno ragazzi Un Fenomeno Vabbè che qui C'è Griezmann C'è la Noglu E' uno spettacolo ragazzi E' uno spettacolo Veramente uno spettacolo Uno spettacolo 2 a uno E ancora Antoine Griezmann Doppietta per lui C'è la Noglu Bella palla per Mares Attenzione ancora Griezmann Che rientra Ancora Griezmann C'è Moras Stavolta che chiude Attenzione c'è la Noglu Che c'è la palla sul sinistro Ma non fa in tempo a tirare Stavolta perché la palla arriva in qualche modo a Griezmann La gioca indietro per Mares Oh signore Oh signore cosa è successo ragazzi 3 a uno 3 a uno per l'Inter Gol di Mares Qui lo diamo a lui ma Non so se proprio E' un gol di Mares Perché qui è successo veramente di tutto Qui Rafa Marquez Ha fatto una roba Veramente oscena Signora Peris La mette in mezzo Dove c'è il palacio Signori Oh ragazzi C'è Peris C'è un fenomeno E' un fenomeno Allora vedete perché 4 a uno ragazzi 4 a uno dell'Inter Stiamo andando da dio ragazzi Stiamo andando veramente Da dio Finisce qui ragazzi 4 a uno per l'Inter Non me lo ricordo più 4 a uno per l'Inter Sì perché alla fine Il Verona è andato in ultra È andato in ultra offensiva E quindi noi siamo entrati Nella loro difesa Come veramente Un coltello Nella marmellata Così Ah mi sono scordato prima Di dirvi ragazzi Che Questa stagione La giocherò La continuerò a giocare a campione A meno che non inizi a vincere Tutte le partite 5 a 0 Capite Perché come avevo detto all'inizio La prima stagione a campione La seconda stagione Dove c'è anche la Champions League A leggenda E tutto sarà Veramente molto più complicato Ma comunque adesso Andiamo a fare Un po' di allenamenti Io direi che Possiamo allenare Icardi che è pronto Assolutamente Finalmente Icardi è pronto Grazman Allora io direi Di allenare Felipe Anderson Perché sta per salire Di rating totale Tielemans E per il momento Cialanoglu Abbiamo bisogno di allenare loro Per il momento Abbiamo un sacco di giocatori Da allenare Simuliamo Vediamo come potrebbero andare Ma non male Tutti abbastanza bene Devo dire A parte A parte Icardi Ragazzi Il Frosinone ha battuto 2 a 1 La Juventus Guardate la classifica adesso Guardate la classifica adesso Siamo a meno 1 A meno 1 Dalla Juventus E più 3 Più 3 Non sono tanti Più 3 Dalla Lazio Ma meno 1 Dalla Juventus Che ha perso Contro il Frosinone Che è abbastanza in basso Nella classifica Comunque ragazzi Prossimo match Con la Fiorentina Ci vediamo un attimo Che devo fare un attimo La formazione Ok ragazzi Questa è la formazione Con cui andrò a Battermi contro la Fiorentina E adesso che è tornato Icardi Devo fare veramente Delle scelte Molto ma molto Importanti Per quanto riguarda La formazione E credo Che se si mette bene Questa partita Potrei provare Anche un Griezmann Alla destra Eh mettere in panchina Icardi Mi sembra eccessivo È giovane E non posso Assolutamente farlo Dobbiamo assolutamente Vincerla Dato che la Juventus Ha perso colpi E la Juventus Quest'anno Ne perde veramente pochi Borca Valero Ancora Borca Valero Come se ne è andato Attenzione Borca Valero 1-0 Non posso crederci Ragazzi Non posso crederci Come tirano in porta Mi fanno gollo Boom Imparabile per Nardi Imparabile per Nardi Ragazzi Icardi Trovo lo spazio Per Cialanoglu Il tiro di Cialanoglu Tata Rusanu Fa il miracolo Attenzione a Griezmann Ancora lì il pallone Mares Per Florenzi Il tiro di Florenzi Deviato Non è deviato Griezmann Icardi Per Cialanoglu La stazione è perché Cialanoglu Può andare Può andare a Cialanoglu C'è in mezzo Mauro I K D Che ritorna Con gol Pareggio dell'Inter 1-0 Grande lavoro qui Del reparto offensivo dell'Inter Che ha seguito A pieno A Cialanoglu Che si è fatto Una bella corsa qui E poi ovviamente Il gol della merda Qua ci sta tutto quanto Ragazzi Perché questo non bisogna sbagliarlo E Icardi non ha sbagliato Finisci qui il primo tempo ragazzi Stavo ripartendo alla grande Ma devo assolutamente fare dei cambi in formazione Perché Oh c'è Juventus-Napoli ragazzi Dobbiamo vincere Con Griezmann Che mi fa L'ala destra Perisic L'ala sinistra Cialanoglu Il C-O-C E faccio entrare Tielemans Così siamo Coperti al centro campo E proviamo ad attaccare Per andarla a vincere Attenzione a buon cavallero Può metterle No ma basta Sti cazzo di rigori Porca troia Che palle Non spingo niente Dio mio E da rigore così Che due maroni Dai Nardi Contro Giuseppe Rossi Sinardi Ciuccia Andiamo Attenzione c'è la Noglu Ha un ottimo tiro C'è la Noglu Cos'ha parato Tataruzanu Cos'ha parato Tataruzanu ragazzi Pazzesco Un miracolo incredibile Buono 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 Ho cambiato le ali ragazzi Ho messo Griezmann punta centrale A posto di Mauro Riccardi Ho messo Felipe Anderson E Inaki Williams Che sono decisamente più rapidi Andare Inaki Williams Attenzione Inaki Inaki Il tiro di Williams C'è Griezmann SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 2 A 1 Signori Inaki Williams entra E fa subito del Del disastro Signori Mamma mia 2 A 1 Se n'è andato così Inaki Williams Poi il tiro Addosso quasi No Gran miracolo Di Tatarusano Ma poi Griezmann E' sempre lì sul pezzo E l'Inter Passa in vantaggio 2 A 1 Ragazzi Se ne abbadele Il tiro Di Kalinic se non sbaglio Il miracolo di Nardi Nardi ancora Ma va a cagare Doppio miracolo di Nardi Ma qui difesa ferma Completamente Cosa vuoi fare Ah niente adesso andiamo ultra offensiva Andiamo a vincere sta cazzo di partita Williams Oddio che palla per Griezmann No 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 Può andare Felipe Anderson Ma perché tutti sti tiri centrali Ultima azione probabilmente del match Williams Per Griezmann Che palla per Cianoglu Centrale ragazzi Tutti sti tiri centrali Ma che cazzo glielo dice di tirar la centrale E finisce due pari C'è la Juventus Napoli La Juventus ha vinto porca miseria Ha vinto contro il Napoli E adesso siamo a tre punti Tre punti ragazzi Ottimo 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 Perché ha salito Felipe Anderson Ha salito di rating Molto bene questi allenamenti Proseguiamo ragazzi Perché Assolutamente C'è bisogno di un'altra partita Ma soprattutto perché è finita questa con La Sampdoria La prossima è con la Juventus Io vi lascio proprio così Con la partita contro la Juventus Ok andiamoci a giocare questo match Con la Samp Con le due punte Icardi e Griezmann Sperando che facciano qualcosa di Di buono Inter Sampdoria Per riprenderci dal pareggio contro la Fiorentina Che Che ci ha fatto secondo me male Molto male Perché Dovevamo assolutamente a tutti i costi Andare a vincere quel match Per andare a prendere la Juventus E ci toccherà aspettare L'incontro diretto Che ci sarà Settimana prossima Mares la mette in mezzo Dove c'è Mauro Riccardi Che anticipa Silvestre Ma non riesce Ah no È stato bravo Silvestre Cazzo allora Calcio d'angolo per l'Inter C'ha la no Glù Un po' corta Aspettate perché l'Inter è ancora lì Musacchio Condogbia Può insinuarsi Ancora Condogbia Il tiro Di Gioffre Condogbia 1-0 signori E l'Inter passa in vantaggio Con questo Con questo inserimento incredibile Di Condogbia Che poi rientra E poi col mancino Fa una roba splendida 1-0 Inter Al diciannovesimo Del primo tempo Attenzione Cardi C'è largo Griezmann Il tiro di Griezmann Che davanti Che ha Viviano Il tiro va fuori Di un soffio Un soffio Viviano qua Ci ha fatto una scorreggina Mi sa perché La palla ha veramente Sfiorato il palo Attenzione c'è la Noglu Ottimo movimento Di accancio alla Noglu Che rientra Ah no Questo però non è rigore Tutti quegli altri rigori Di merda Che hai dato Attenzione a Florenzi La mette in mezzo Dove c'è Mores Il miracolo di Viviano E poi Cardi Non riesce a prendere la porta Altra occasione Per l'Inter Per raddoppiare Finisce qui il primo tempo 1-0 per l'Inter Gol di Gondogbia Gol di Gondogbia Intanto Luke Shaw Si sovrappone Come al solito Può andare Luke Shaw Non c'è nessuno Ma c'è Cialanoglu Da fuori Il tiro di Cialanoglu Signori E questo è il suo pane Dopo due minuti Dall'inizio del secondo tempo Cialanoglu Firma il 2-0 Con un tiro dei suoi Fenomenale ragazzi Fenomenale Grande azione di Luke Shaw Qui che ha trovato Un pertugio ottimo Per poterla giocare A Cialanoglu Paff E poi c'è Cialanoglu Di destro Viviano Viviano non può Nulla 2-0 A Can Cialanoglu Icardi Felipe Anderson Griezmann Attenzione Griezmann Griezmann Se ne va Antoine Griezmann Signori Non lo ferma nessuno 3-0 Dopo tre minuti L'Inter Forse chiude il match Con un'azione Molto bella devo dire Molto bella Mi sono un attimo Impapinato ragazzi Scusate perché c'è un po' di Roschino Non sono riuscito a dire I nomi giusti Al momento giusto Qua Felipe Anderson Icardi Griezmann Poi Griezmann se ne va Evita questa scivolata Non so come E poi la tira all'angolino E firma Il 3-0 per l'Inter Griezmann C'è perché c'è un altro Per Tugillo Per Cialanoglu Vediamo cosa si inventa Can Fallo Fallo su Cialanoglu Voglio provare a tirare Ragazzi Mi interessa A Can Cialanoglu Il tiro di Cialanoglu Miracolo di Viviano Signori Che miracolo ha fatto Viviano Attenzione La Sampdoria Che attacca In massa Cassano Indietro per Fernando Il tiro di Cassano Ma Nardi La parà Molto facile Attenzione perché l'Inter Scopertissima in avanti Mentre la Sampdoria In ultra offensiva Moissander un po' lento Qui nella Scusate La mette in mezzo Volevo dire Un po' lento nel controllo Palla Poi ha messo in mezzo Un bellissimo cross Ma Ider non è riuscito A sfruttare Ancora Tielemans Che tiene di fisico Poi la gioca per Felipe Anderson Oddio che piazzato Di Felipe Anderson Mamma mia In un fazzoletto Si è girato E l'ha piazzata Anche ora perché Ancora l'Inter Quanto copia Il tiro da fuori La palla resta lì C'è Mauri Cardi Esce Viviano Con i pugni Ma ancora L'Inter in attacco Inaki Williams È in aria Attenzione Inaki Williams Il tiro di Inaki Williams Poi la palla ancora lì Arriva Icardi Ma esce bene Viviano E sventa Il possibile 4-0 Per l'Inter Probabilmente la partita Si concluderà qui Ed è così 3-0 per l'Inter Ottimo 3-0 Che come ho già detto Ci avvia Verso La Juventus In maniera migliore Vi ricordo ragazzi Nel prossimo episodio Partita con la Juventus Quindi non perdetevela Assolutamente Perché No no ragazzi Non ci credo Non posso crederci Non perdetevi il match Con la Juventus Perché Ha pareggiato Eh si ragazzi La Juventus ha pareggiato Col Bologna Uno pari E adesso abbiamo la possibilità Nel prossimo scontro diretto Di Di passare in vantaggio ragazzi Di passare in vantaggio In classifica Perché questa è la classifica Ragazzi 5 punti dalla Lazio Ma uno Dalla Juventus È il momento giusto È il momento giusto Per superarla in classifica È il momento giusto Per superarla In classifica Perfetto ragazzi Noi avanziamo Ma ci salutiamo qui Vi ricordo Prossimo episodio Partita con la Juventus Datemi dei consigli di formazione Ragazzi Perché non so se far partire I carri da titolare Potrebbero essere Delle sorprese Signore Lasciate un mi piace Come sempre Consigliatemi Sotto nei commenti Un mi piace Un commento Un consiglio Ci vediamo Ad un prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti